E' il titolo di una rassegna che si svolgerà a Galleria Colonna di Roma. Vediamo di cosa si tratta. Edoardo, drammaturgo, attore e artista, ma anche figlio, padre e uomo. E' questo l'Edoardo De Filippo fotografato in una mostra che rimarrà aperta alla Galleria Colonna di Roma dal 12 aprile al prossimo 25 giugno. L'allestimento, curato dal giornalista Maurizio Giammusso e presentato dall'assessore alla cultura di Roma Gianni Bornia nella sala delle bandiere del Campidoglio, ripercorre la vita teatrale non solo di Edoardo, avvalendosi di cimeli storici, fotografie, disegni e scenografie per offrire a 360 gradi la personalità dell'artista. Edoardo, da Napoli al mondo, questo il nome della mostra, occuperà una vasta superficie, per l'esattezza 900 metri quadri, dove sarà possibile immergersi nell'esistenza di un uomo che ha dedicato i suoi 84 anni di vita al teatro. A Roma non ci sono soltanto agenzie di viaggio, agenzie immobiliari.